Bene raga, bene, benissimo, inizia bene la stagione della Roma, stupendo al massimo Roma perde 3-0 a tavolino, è uscito poco tempo fa da Sky ma già si sapeva La Roma perde 3-0 a tavolino per una questione veramente imbarazzante che dimostra che la società che c'è adesso E' imbarazzante, quelli che sono rimasti e non do colpe alla società, a Fritkin Che è appena arrivato perché stiamo pagando ancora gli errori della vecchia proprietà di James Pallotta Questa cosa mi manda veramente ai pazzi perché è una società veramente dei buffoni, quelli che sono rimasti e spero Fritkin Faccia, tabula rasa e manda tutto via a fanculo e distrugga e ricostruisca Tricoria da capo Per chi non lo sapesse la Roma ha perso la 3-0 la partita contro l'Elas Verona a tavolino che era finita 1-1 sabato Perché praticamente il direttore generale Longo che ieri ha dato le dimissioni Ha inserito Giavara nell'over 22, nell'under 22 scusate Quando lui è un over 22 perché ha compituto 23 anni a luglio C'è un errore che manco in terza categoria si fa È una cosa veramente, veramente imbarazzante Perché questa è una figura di merda, grossa quanto una casa Io non ho mai visto una squadra di serie A, ma di serie A Ma manco in promozione, in prima, seconda e terza categoria Sbagliare un giocatore dell'età e metterlo da un'altra parte La Roma adesso farà ricorso, ma non me ne frega un cazzo Perché anche se tu vai a vincere questo cazzo di ricorso Tu hai fatto una figura di merda che non puoi permetterti E spero vivamente che la maggior parte della gente dentro Ricoria Vada a fare in culo Spero che Fritkin mandi a fare in culo Tanta, ma tanta, di quella gente Perché non è possibile Non è una cosa ammissibile Stiamo in una società di incompetenti Perché gente come De Santis Che da anni che sta a Roma Se ne deve andare a fare in culo Certi mi criticavano Totti Che era uno dei mali della Roma Perché i romani e i romanisti se ne dovevano andare Perché Totti non è bravo a fare il dirigente Perché non sa parlare inglese Ma De Santis, che cazzo fa De Santis? Era già un giocatore mediocre È un dirigente mediocrissimo Inutile Ma i mandiri a Totti e De Rossi Medini De Santis in società Ma che cazzo state a fare Tutto per colpa di una merda Che si chiama James Pallotta Che è stato a Roma Non se ne è mai fregato Di quello che è successo a Roma E noi tifosi da Roma Ci dobbiamo distruggere il fegato Per questa situazione Cioè siamo caduti in basso In basso Perché quando non c'è più un proprietario Dentro di Ricoria Il proprietario Quelli che stanno dentro Fanno il cazzo che gli pare Se per dirte Io c'ho un cane Io c'ho un cane E sto sempre con questo cane Mi segue Cioè io sono il padrone Quindi mi sta sempre dietro Se io lo lascio da sola Dentro casa E non ce sto mai Quello fa il cazzo che gli pare E questo che è successo Dentro di Ricoria Se non ce sta un padrone La gente fa il cazzo che gli pare E perde 3-0 al tavolino E brucia Ma non tanto Per il punto Ma per la figura di merda Poi pure il punto Può essere una cosa brutta Perché se noi non andiamo in Champions League Per un punto A chi lo vuoi spiegare A chi lo vuoi spiegare Sta cosa che noi non andiamo in Champions Per una trascrizione di merda Caduti veramente nel basso Fienga pure No Tu sei Basta Hai rotto il cazzo pure tu Per me Faccio una critica pure Lui Tu sei Sei un Dicono che sei una brava persona Quello che cazzo ti pare Sei De rossi di rispetta Totti pure Però tu non puoi Tu devi un attimo Non puoi fare al mercato Cioè con tutto l'amore del mondo L'hai detto anche tu Che non capisci In cazzo dei palloni Mettiti a fare i conti Voi allo stadio Basta Bisogna fare Tabula rasa Della gente niente dentro di Ricoria Raga Sto amareggiato Per non contare ieri La situazione Dzeko Milik Che veramente Mi volevo Mi volevo ammazzare ieri Perché Non tanto per Per l'affare sfumato Ma per i soldi Che la Roma Poteva andare in tasca Per un eventuale schiamio Poi Lasciamo stare Messi Messi alle corde Della Aurentis Ai comodi del Napoli Vabbè raga Ora aspettiamo ricorso Figura di merda Grossa quanto una casa Speriamo che verrà fatta Tabula rasa Sempre forza Roma E Lazio merda Speriamo un po' Zero punti Porca buttana